Torna a Firenze il Florence Folk Festival, punto di riferimento estivo per la musica popolare contemporanea che dal 25 al 28 luglio celebrerà la sua terza edizione spostandosi dalla Balera del Varlungo alla Manifattura Tabacchi spazio protagonista di un progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana. È una grande novità, lasciamo la Balera del Varlungo per spostarsi più vicini al centro, si va in Manifattura Tabacchi che è un luogo che si presta altrettanto bene ad una festa popolare urbana come le scorse edizioni e gli spazi della Manifattura sono incredibili se non ci siete ancora stati, comunque è una città è una città e noi saremo nel piazzale dell'orologio, appena entrati dopo il grande cancello. Per quattro giorni andrà in scena un ricchissimo programma di concerti, incontri, presentazioni, handmade market a cura di Creative Factory e l'area baby con tante attività e giochi sostenibili a cui si aggiunge quest'anno anche la sagra della Violetta, la melanzana fiorentina ma il piatto forte della manifestazione resta come sempre la musica. Si parte il 25 luglio con Dente Catalano, contemporaneamente insieme anche d'estate lo spettacolo che questo inverno ha fatto sold out in quasi tutti i teatri italiani diretti dall'Odo Guenzi dello Stato Sociale, tornano nella versione estiva il 25. Il 26 ospite fisso del Florence Folks Festival Extra Liscio, come sapete è questo gruppo formato da Mirko Mariani che è il polistrumentista di Vinicio Capossela assieme all'orchestra del Liscio Romagnolo capitanata da Moreno e il Biondo e quindi si reinterpreta il Liscio e loro lo chiamano addirittura punk da balera. Il 27 invece per la prima volta in Italia c'è Jalkin Robinson che è un musicista, cantautore che viene da un isolotto minuscolo della Colombia che però sta davanti al Nicaragua, sono tre chilometri di isola, si chiama Old Providence, i colombiani invece la chiamano Providencia. Si chiude con Nicodemus e Populus, musica elettronica che invece questa è coniugata con ritmi che vengono da altre tradizioni del mondo. Populus in particolare è salentino ma mescola l'elettronica con musica dell'Angola, quindi la parte lusitana dell'Africa e Nicodemus invece è un DJ di New York storico che viene citato da tutti come punto di riferimento e lui invece mescola musiche anche dal Sud America sempre con l'elettronica. Tra le novità di questa edizione, Mongolfiera, una fiera per un editore, a cura della libreria Todomodo. Ogni sera prima del concerto un editore diverso racconterà il suo mestiere, fra gli ospiti mercoledì 25 Andrea Gessner di Notte Tempo, giovedì 26 Cristina Gerosa di Perborea e venerdì 27 Marco Zapparoli di Marcos i Marcos. Il Volksfestival che presentiamo oggi è una realtà che da qualche anno abita l'estate fiorentina, è un progetto che convince per un aspetto che trovo particolarmente fortunato e vincente che è unire il fascino della tradizione, quindi della tradizione folk popolare, il ballo liscio, il ballo di piazza, insomma la vita sociale, popolare e spontanea, alle traiettorie più contemporanee della canzone d'autore e del teatro canzone.